Campi arsi dal sole, siccità, coltura in sofferenza, scarsità d'acqua. Una situazione di emergenza che sta colpendo le campagne, imponendo scelte obbligate agli agricoltori, come ad esempio quella di sospendere l'irrigazione in alcuni campi, proprio per centellinare la preziosa risorsa idrica. La situazione qua è grave. Se andiamo avanti così, rischiamo veramente di andare al collasso con le aziende perché dobbiamo centellinare l'acqua e lasciare, tra virgolette, i campi che hanno il terreno più leggero, che non tengono l'acqua, e sacrificarlo per salvaguardare quello dove c'è il terreno un po' più forte, che in teoria regge di più. Una necessità di acqua che l'azienda agricola di Buzzini ha cercato di sopperire con la perforazione di propri pozzi. Ne abbiamo già uno e quest'anno ne abbiamo fatto un altro, un po' in ritardo perché con i permessi così, però siamo riusciti ad averlo adesso e magari ci buttiamo dentro la sommersa prossima settimana e riusciamo a metterci una pezzetta, diciamo. I pozzi possono essere una soluzione, purché la falda non si abbassi troppo, spiega Buzzini, ma ci sono anche altre strategie per ottimizzare l'uso dell'acqua. Abbiamo sempre fatto con l'irrigatore come questo, è già qualche anno che ci siamo messi a fare il goccia-goccia e fortunatamente quest'anno l'abbiamo pensato di fare l'85% dell'azienda tutto sul goccia e ci sta salvando. La necessità di conservare l'acqua piovana per uso irriguo da utilizzare nei momenti di bisogno è uno dei temi più urgenti per Coldiretti e come spiega il direttore della sede di Piacenza, Roberto Gallizioli, accanto a misure immediate per garantire l'approvvigionamento alimentare della popolazione, appare evidente l'urgenza di avviare un grande piano nazionale per una rete di piccoli invasi. Ma non c'è solo l'irrigazione dei campi, l'acqua è necessaria anche per altri scopi in aziende come quella di Buzzini, nella quale sono allevate 120 vacche da ingrasso di razza limusin. Al pomeriggio quando ci sono proprio quei caldi lì, tipo adesso a giugno con quei 35-38 gradi, abbiamo preso una botticella e le bagniamo una o due volte al giorno per cercare di tenerle un attimo refrigerate. Animali che oltretutto soffrono la sete. Hanno più sete, molto più sete, infatti sono sempre lì che giocano con l'acqua, che cercano di bagnarsi perché anche loro stanno patendo.